Ciao a tutti, sono Giorgia e questo è il mio canale. Oggi vi voglio parlare di una novità sul piano cinematografico fantastica dal mio punto di vista. E voglio parlarvi appunto di Mary e il fiore della strega, o nel titolo inglese Mary and the witch flower. Allora, per chi parla di animazione giapponese, lo studio Ghibli è come Gesù Cristo, Miyazaki è il nuovo Redentore, è il Disney napponico. Bene, ora c'è una novità nel piano cinematografico nipponico e è lo studio PONOC. Lo studio PONOC si è lanciato quest'anno in un nuovo progetto, anzi il primo nuovo progetto che hanno messo sul mercato mondiale, che coincide con Mary e il fiore della strega, primo film di animazione di questo studio emergente. Siamo andati a vederlo io e alcuni miei amici al cinema e ne sono rimasta letteralmente affascinata. È stupendo, non ho mai visto una cosa così bella. Partiamo sulla scheda un po', cioè partiamo con i tecnicismi scusate di questo film. Io qui ovviamente ho tutte le nozioni del caso. Allora, Mary e il fiore della strega è in realtà ispirato a un classico della letteratura per ragazzi, che è La piccola scopa, che da piccola avevo letto. Allora, La piccola scopa è un racconto di una scrittrice britannica di nome Mary Stewart. Allora, come vi posso spiegare la trama senza farvi molti spoiler? Allora, la storia racconta le vicende di Mary Smith. Mary Smith è questa ragazzina in un'età ipotetica intorno ai dieci anni, con i capelli rossi e crespissimi, che va a vivere dalla zia. Bene, la zia vive in questa casa in aperta campagna, immersa nel verde ma un po' isolata, ecco per dire. La ragazzina, giustamente, come tutte le ragazzine della sua età nel niente cosmico, si annoia. Cosa decide di fare? Decide di esplorare il bosco, il bosco che sta praticamente quasi di fronte alla casa. Bene, nel bosco troverà un fiore che assomiglia a una campanola, che è il fiore della strega, e la porterà a vivere delle avventure fantastiche in un'accademia in cui le streghe vengono istruite sulle arti magiche. Non vi spoilerò oltre per non rovinarvi il film. Ora, come posso spiegarvi la bellezza di questo film? Allora, a livello grafico io vedo i rimandi a Miyazaki. Perché? Perché c'è la figura, comunque, della giovane eroina che tenta di risolvere i problemi, c'è un grande sentimento di accettazione e ambientalismo. Mary e il fiore della strega è un chiaro rimando a personaggi come Nausicaa, come Mononoko Hime, per chi ha visto il film di Miyazaki. Ora, perché io consiglio di andare a vedere un film del genere? Innanzitutto perché è un film dal grande apporto femminista. Abbiamo una protagonista che non si fa salvare, ma bensì che salva gli altri. Quindi, come posso dire, il cliché della principessa salvata non c'è assolutamente. Anzi, abbiamo una ragazza estremamente combattiva che tenta di salvare gli altri e il mondo. Graficamente, devo dire che mi ricorda molto anche per alcune immagini, alcune sequenze, un altro capolavoro dello studio Ghibli che è Chi chi consegna a domicilio. In quanto abbiamo comunque una ragazza, una streghetta, praticamente, a cavallo di una scopa e un gatto. Anche se, in questo caso, il gatto nero non è il classico Gigi tanto caro all'animazione mia zecchiana, ma bensì un gatto molto peloso, tutto nero, molto carino e con leggermente arcigno, ecco, per dire. Negli antagonisti io rivedo comunque figure anche lì che si ripresentano in altri film di Miyazaki. Quindi l'antagonista, la strega che comanda l'accademia in cui la nostra protagonista va a finire, mi ricorda molto la vecchia strega Baba della Città Incantata. o anche la strega madre della favola, anzi del film di animazione, Il Castello Errante di Aul, che si fa comunque anche quello a un racconto per ragazzi di una famosa autrice inglese. Ci sono molti rimandi a Miyazaki durante tutto il film e per chi è abituato a guardare animazione giapponese sicuramente li noterà. Questo però non rende assolutamente pesante e già visto il film, anzi è estremamente godibile e pieno di, come posso dire, di azione e di pathos. Ora, i film purtroppo in animazione giapponese in Italia vengono distribuiti solo per pochissimi giorni e questo secondo me è un grande limite perché non capisco per cui altre animazioni vanno avanti per settimane, invece nel nostro caso cinque giorni e poi basta. Ora, perché è un grandissimo sì, perché il film mi è piaciuto tantissimo, ora ve lo vado a illustrare. Innanzitutto, come ho detto, mi sono piaciuti i rimandi a Miyazaki durante tutto il film, quindi i riferimenti a chi consegna a domicilio, i riferimenti a, dunque, alla città incantata e i riferimenti al castello errante di Aul. Mi è piaciuto la velocità del film e essere liberamente tratto dal libro che io ho adorato da bambina, quindi non potevo assolutamente non andarlo a vedere. Mi è piaciuta la colonna sonora, mi è piaciuta la grafica, in sostanza mi è piaciuto tutto il film, come potete capire. Lo consiglio a un pubblico di tutta l'età, quindi sia ai bambini che fanno le elementari, perché lo troveranno estremamente bello e godibile, sia a ragazzi più grandi o a adulti della mia età, che hanno già visto i capolavori di Miyazaki e ritroveranno, secondo me, in qualunque produzione dello studio Ponock un rimando allo studio Ghibli, quindi assolutamente godibilissimo dal mio punto di vista. Poi, che dire, come posso dirvi guardando da qui, Mary and the Witch Flower ha ricevuto un'accoglienza molto sentita, non si vedeva tanta gente al cinema da Mononoko Ime, quindi ci sarà un motivo. Poi, la colonna sonora è assolutamente bellissima, è fatta da Takuzugu Muramato, già compositore di opere del film Quando c'era Merni, dello studio Miyazaki. Che dire, è bellissimo, è godibile, ve lo consiglio, vi consiglio di andarlo a vedere, vi consiglio anche di leggere il libro, che comunque adesso con la produzione del film troverete sicuramente in tutte le librerie. Poi, cosa posso dirvi a altri dati tecnici? Per darvi un'idea della grafica che venete a trovare, se il telefono collabora, questa è più o meno la grafica che verrete a trovare nel film. Quindi, come potete vedere, i rimandi a Miyazaki ci sono tutti senza ombra di dubbio. Il film ha una durata di 102 minuti, quindi sulle due orette più o meno di cinema, ma non vi rendete conto che passano. Cioè, io dopo la pausa di Metafilm mi sono girato e ho detto ma come siamo già a metà, mi sembrava che fosse appena iniziato. La regia è di Hiromasa Yunebayashi. E come ho detto, è una novità dello studio Ponoc. Bene, ragazzi, la recensione flash è finita, non ho voluto farla particolarmente lunga e non mi sono voluta ulteriormente dilungare per non rovinarvi il film. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella in modo da poter vedere subito i miei video. Vi lascio qui sotto, nell'area dell'infobox, i miei contatti Instagram, lì sono leggermente più attiva e vi rispondo. Nulla toglie che se commentate qua sotto vi rispondo comunque perché adoro interfacciarmi con voi. Vi rinnovo l'iscrizione ai canali e ciao a tutti!